Ecco quasi in mezzo a quel gruppo di persone Venga verso di me, il cane cammina in mezzo a noi due Mi superi, va bene, va bene Allora, venga, lasci stare la pozzangara Passi con quella, con quello di... Quintorni! Quintorni! Quintorni questo giubotto, per favore, torniamo dietro Mi è arrivato addosso, ha detto che cavolo mi arriva Eccolo! Abbiamo il fungo atomico Va bene, va bene Adesso facciamo la prova di... no, lo sparo prima Sparo Prendiamo sui piedi Vado in là? Si, con il salio lento cammino in quella direzione Va bene signora, venga Grazie Grazie Il salio le faccia tutto con molto caldo Il salio le faccia tutto con molto caldo Ok Buddy Dai! 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 Bravo! Ehi! Ma ci stai bambi? Qua bene? Qua bene? Qua bene? Qua bene? Grazie.